Ciao a tutti e ciao a tutte, eccoci con un'altra lettera dell'alfabeto della resilienza. Oggi la lettera è la V, inevitabile, V di vita, vita, forza vitale, viriditas per il De Garda di Bingen, dare vita alla vita, cosa vuol dire? Noi veniamo da una sorgente, una sorgente per fortuna misteriosa. Nella fisica della vita i due autori, che sono due scienziati, dicono per fortuna che nessuna scienza potrà mai cogliere fino in fondo il mistero che sottende la vita. La si potrà descrivere nei suoi processi, ma quella scintilla che accende la vita sarà imprescrutabile e resterà tale. Veniamo dal mistero, lì c'è una sorgente di forza, appunto la forza vitale dentro di noi. Che cos'è? Lo slancio, quel qualcosa che in ogni caso procede, lo si vede bene nella natura. La natura ci dà infinite metafore di questo, l'alba che sorge ogni mattina, la piccola pianta che riesce a germogliare anche in quei muri a secco, dove sembra che non possa trovare neppure nutrimento e neppure terreno. Il giardino, che quando lo lasciamo incolto, dopo un po' diventa una selva. Il piccolo ragnetto, che in qualche modo continua, imperterrito, a salire lungo la china della grondaia, anche se poi scivola giù e ci riprova ancora. Il bambino, che cammina e cammina e continua a provare a camminare anche quando cade tante volte. Ma non si pone neppure il problema di non riuscirci. Ecco, la vita non si pone il problema di non riuscirci. La vita semplicemente procede. Allora, per la resilienza è importantissimo, siamo quasi sul finire del nostro viaggio, allora è importantissimo non dimenticarsi mai di dare vita alla vita, come facevano gli antichi, con piccoli rituali, con piccole abitudini, con piccoli momenti in cui celebravano la vita. Poteva essere offrire un fiore, poteva essere preparare qualcosa di buono, un cibo buono, qualsiasi atto che per voi sia una riconnessione con la vita, con la V maiuscola.